Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Benvenuti alla nuova puntata, abbiamo ospite un catautore, Savana7 La domanda più spontanea per chi ci ascolta e per chi ti ascolta Se dovessi descrivere chi è Savana7, come lo descrivesse utilizzando anche un testo di un'altra canzone Ma soprattutto, perché Savana7? Allora, Savana7 diciamo che è nato tutto da ovviamente da quando ho iniziato a cantare le mie prime canzoni Dovevo trovare un nome d'arte e allora mi sono ispirato principalmente al mio simbolo zodiacale Che è il leone appunto Di conseguenza, essendo nato il 7 agosto, col simbolo zodiacale, leone Essendo che il leone è anche il mio animale preferito Ho deciso comunque di associare l'habitat del leone che si trova in Africa Che è la Savana Come mio nome d'arte Ecco, tutto è nato principalmente quando Come ho scritto anche nella biografia del pezzo A causa di una delusione d'amore Di una delusione che è nata da una ragazza Da cui sono riuscito a uscirne fuori Quindi riuscire a diventare più forte e a dedicarmi alla musica È nato tutto apparentemente in modo naturale Inizialmente la prima canzone è stata scritta Non ero nemmeno ancora a Savana L'ho scritta così tanto per dolore Per sfogarmi per quel periodo brutto che stavo passando Da lì è nato tutto Inizialmente era una poesia Ha preso spunto Ho conosciuto i primi ragazzi Che tuttora lavorano con me Che stanno crescendo insieme a me Che tuttora fanno i produttori I miei produttori E poi è nato tutto Ho dovuto scegliere un nome d'arte Sono ispirato appunto alle cose fondamentali Le basi fondamentali della mia vita In questo caso il 7 Il 7 agosto è la mia data di nascita E poi il simbolismo locale del leone In cui appunto sta il leone che è la Savana E da qui è nato tutto insomma In nome d'arte A questo punto io parlerei dell'ultimo brano Prodotto che Io cambio leggermente il titolo Abbiamo creduto in te Perché il titolo ho creduto in noi Ma noi crediamo in te E chi ti ascolta crede in te Come nasce questo brano? Come nasce questo brano? Ma soprattutto Un pochettino ci hai raccontato come nasce E soprattutto dove trai ispirazione Sì E ho creduto in noi Nasce appunto Con questo Con il progetto appunto Con la collaborazione Della casa discografica di Rosso al Tramonto Di Happy Music Studio Tutto in atto da Da un'idea che dovevamo farci ecco Per far uscire il pezzo in radio Come potevamo fare? Allora io sono un cantante Principalmente hip hop Ok? E ultimamente nell'ultimo anno Si è un po' Diciamo Ramificato verso vari stili E sono riuscito a trovare Anche uno stile Che è fuori dall'hip hop Che mi piace molto Perché è quello del pop normale Dello stile cantato Ho provato Con la casa discografica di Milano Abbiamo Diciamo pensato a A una roba Un pochino più Un pezzo più Più pop Invece che hip hop Per far sì che comunque Me la possano ascoltare Il pezzo possa essere ascoltato Da tutti Insomma da tutte l'età Perché magari Alcune persone Non piace il mondo Dell'hip hop Quindi tutto il rap La trap Eccetera eccetera Quindi ho detto Con la casa discografica Perché non facciamo Un pezzo Pop Quindi cantato Così In modo tale Che me lo possano ascoltare Tutte le fasce d'età E sinceramente È venuto più che bene Perché Dovevamo trovare Il contesto giusto E il contesto giusto È stato appunto Come ho iniziato A fare musica E il come Ho iniziato a fare musica È stato tratto appunto Da una delusione d'amore Che Ovviamente A cui non ci sto più male Ma mi ha dato questo spunto Mi ha dato questo Questo via E ho tratto Insomma Ho tratto spunto da questo E abbiamo scritto una canzone Che appunto ricorda Un vecchio amore mio Quindi un genere pop Ecco Un genere più Possiamo fare riferimento Se vogliamo fare un riferimento A un cantante famoso Di oggi È blanco Ecco Invece Il mio stile Principalmente Quello hip hop Possiamo dire Uno sciva Possiamo dire Ecco Una cosa del genere Quindi ho voluto Un attimo Uscire dai miei parametri E fare una cosa Un pochino più Comune Che Con cui insomma La gente me la possa ascoltare In varie fasce d'età Tutto qua Abbiamo visto la copertina Dove in realtà Ci sentì Molto semplice Ma anche In fondo Molto complessa Perché Non so perché Ma stai guardando Non si sa dove Con un aspetto Possiamo dire Quasi serio Sì La copertina È stata fatta Appunto Con un'idea Dal mio fotografo È stata fatta Appunto Con un'idea In cui Io guardo Verso quella parte Come per dire Il passato Alle spalle Lo sto guardando Rimane In teoria Il passato Deve essere dimenticato No Magari il passato È brutto Ci sono Dei momenti In cui Magari Una persona Non vuole ricordare Io magari Non avessi fatto Musica Nemmeno io Avrei voluto Ricordare Questo ricordo Ma essendo che Con questo ricordo Sono riuscito Comunque a Diventare più forti E a fare musica Soprattutto che È la cosa che faccio Tutti i giorni adesso È diventata Praticamente una routine È impossibile Non guardare Il passato Anzi Ringrazio il passato Per il futuro Che mi darà Nella reagizione Dei testi Nascono prima le parole Nasce prima un bit Riff Oppure Possiamo dire Che a volte Nascono accidentalmente O casualmente Insieme Allora Prima di tutto È nato il testo Il testo Con una base Tra virgolette Sperimentale Abbiamo utilizzato Una base sperimentale Da cui appunto Sono riuscito A scrivere il testo Dopo La scrittura Del testo È stata fatta La base Vera e propria Quindi inizialmente Mi sono allenato Tra virgolette Su una base Sperimentale Da lì È nato Il testo E da Dopo il testo È nata La vera e propria Base Che abbiamo creato Insieme Alla Casa di Scuola Di Happy Music Milano Nella Sessione dei testi Tu previsci Essere un po' più Prolisso Come il classico Italiano Nell'italiano Si utilizza tante parole Per descrivere Un po' Un po' Un mondo Perché Ovviamente È una riscrizione Oppure Come nell'inglese Dove Sia un po' Più sintetici Dove Le parole Sono un po' Non diciamo All'osso Però Essere un po' Più minimal Si Il mio modo di pensare La musica inglese O italiana Insomma Diciamo che comunque Il lessico italiano È più Diciamo Secondo me Come sappiamo Anche L'hip hop Inglese E tutto quello Che riguarda Insomma La musica inglese In ambito Soprattutto Hip hop Inglesi Non hanno I nostri verbi Ecco Noi abbiamo Dei verbi Più complessi Però Comunque L'inglese Anche se È più Diciamo Facile Ovviamente Uno deve saperlo L'inglese Per cantarlo Però L'inglese È molto più facile Rispetto All'italiano Anche se Ovviamente L'inglese La lingua madre Chiunque Sappia Parlare Inglese E fare Questa roba Quindi Hip hop In inglese È considerato Come il napoletano Che fa la pizza Quindi è una cosa Che è stata creata Appunto In inglese Poi Noi italiani Come il resto del mondo Si cerca di copiare I migliori modi L'hip hop E tutto quello Riguarda Insomma La musica Anche a livello In inglese Però Noi italiani Abbiamo un lessico Che Pochi hanno Insomma Quindi Tutto quello Che Che viene Che viene Descritto In italiano Che viene Cantato in italiano Solamente noi Lo possiamo capire Noi italiani Che Che siamo Diciamo Più descritti Più romantici Più Più Quale sensazione Ho provato Dire Ok Sono qui Però Pronto Finito La tua sensazione La prima sensazione Che hai provato La prima sensazione Che ho provato Mi sembrava Di comunque Di essere In un posto Professionale La prima volta Che sono stato In uno studio Vero e proprio È stato appunto Nella mia città Qua a Rezzo Dove Prima di comporre Appunto il mio studio Che è quello In cui sono ora Sono andato Andare Insomma A registrare Il mio primo pezzo In uno studio Professionale Ad Arezzo E questa era Diciamo La prima volta Che entra in uno studio Però La sensazione Che dici te Che stai riscrivendo te E l'ho provata Per la prima volta Appunto Nello studio discografico Di App Music Milano Dove Una volta Registrata Per la prima volta La voce In uno studio Professionale E dissi Pensai Tra me e me Mamma mia Ma questo sono io Oppure È un'altra persona Perché comunque Poi dipende Anche dalla Dagli strumenti Che uno utilizza Oltre che alla voce Ovviamente Siamo nell'era Del 2023 Brutto dirlo La vera musica Rimane La vera musica Quindi tutto quello Che riguarda opera Violini Chitarre In acustico Eccetera Però Siamo nel 2023 La musica È un pochino Più elettronica Quindi più hai Apparecchi elettronici Di qualità Più la tua voce E ovviamente Rispecchia Nei migliori modi Anche se è brutto Dirlo perché Per esempio Mia mamma Faceva la cantante Lirica E non esistevano Queste cose Ai tempi Quindi Diciamo che Stiamo entrando Ora non era Per alcuni Brutta Per alcuni Innovativa Per alcuni Migliore Dipende dai punti Vista Comunque Invece La sensazione Ho provato Quando hai visto Le facce Di chi ascoltava Il brano Lì Quella sala Oltre alle parole Che loro esprimevano La tua sensazione Che le hai visti Sulla faccia Che in fondo Parlava diversamente Dalla parola Che dicevano Che sensazione Ho provato Quando le hai visti Comunque Vada Soddisfatti Con il viso Più che con le parole Eh Da lì Ho capito Tante cose Ho capito Che comunque Il pezzo Spaccava Piaceva Nel senso Un conto È farlo sentire A persone Che Che lo sentono Per la prima volta Un conto Le persone Che erano Con me in studio Appunto Vedere le loro fasce Felici Soprattutto anche Il produttore Che Di Up Music Milano Sabatino Che ringrazio Tanto per la Collaborazione Per la canzone Per il pezzo uscito È un pezzo Che Diciamo Soprattutto anche Il mio produttore Brian Quello che mi accompagna Sempre appunto Qua ad Arezzo È rimasto Diciamo un po' Spaventato In modo ovviamente Bello Noi facciamo Come ti ho già detto Prima Roba più hip hop Più veloce Per la prima volta Per la prima volta Testare questo terreno Del pop Generalizzato Siamo rimasti Un po' Diciamo Di stucco Perché È la prima volta Che facevo Una cosa del genere Ed entrambi Sono rimasti bene E ho detto Vai Sono riuscito A tagliare Un nuovo traguardo Che è quello Di testare Un nuovo genere E Invece C'è qualche artista In cui Un pochettino Ascoltandolo Un pochettino Il riflesso Non hai rubato Ma hai fatto Tuo Un po' Un genere Che ti Porterai Dietro nel tempo E comunque Ti farà Ti ha fatto Crescere E ti farà crescere Sì Io mi ispiro Molto a due Artisti Fondamentali Che secondo me Ora Attualmente Nella scena italiana I pop Sono Anche pop Sono Diciamo Secondo me I migliori Vabbè Senza Rubare niente A sferra e basta Che Attualmente Per me È il re D'Italia Per fare Insomma In ambito musicale Pop Hip hop E poi Ultimamente Con l'ultimo album Che è uscito L'anno scorso Sirio Di L'Azza Anche con L'ultimo pezzo Senere Di Non di amici Ma di Sanremo Diciamo che anche lui Si è fatto Si è fatto vedere In Italia Sono due artisti Che Su cui appunto Mi ispiro tanto E che Riesco Cerco di trarre Insomma Tutti i giorni Delle idee Da loro È suonato Dal vivo Ho cantato Dal vivo Più che altro Io Come ho detto Anche in altre interviste Dovrò effettuare Il mio primo live In estate Intanto Prima di effettuare Appunto L'organizzazione Del mio nuovo live Io Lavoro in discoteca Faccio il vocalist Quindi un po' Diciamo che L'impatto con Il mondo Dei fan Eccetera Eccetera Un po' L'ho testato Però Il mio primo Cioè Non vedo l'ora Che ci sia appunto Il mio primo live O in discoteca O non lo so Bisogna vedere Bisogna organizzare So che ci sarà A presto Una data Non so quando E comunque Lo descriverò Lo farò vedere Nelle mie storie Instagram Però Comunque Il mondo Del Dei fan Della discoteca Insomma Della musica Del live Possiamo dire L'ho già testato In discoteca Facendo appunto Il vocalist Con il mio produttore Che fa anche il DJ Che Si chiama Brian Giannini Lo dico perché È come se fossi Un mio fratello E E niente Diciamo che Spero che vada Tutto bene Appunto Per il primo live Che ci sarà Spero in estate Appunto E andando allora A questo punto Progetti futuri Oltre al Al progetto Del live Ci sono Già in lavorazione O studiate Altri già Nuovi singoli Assolutamente Sì Assolutamente Sì Cerco sempre Di avere Più materiale Possibile Da Saper Appunto Gestire Come voglio Se io Un mese Sono riuscito A far uscire Una canzone Diciamo Più romantica Che parla di amore Per esempio Cerco Nella seconda canzone Nella seconda uscita Di fare qualcosa di diverso Cioè Di alternare Più generi possibili Ovviamente Appunto Per questo Per Per imparare Il più possibile In vari ambiti In vari generi Appunto Mi piace sempre Tenere tanti pezzi Da parte Per appunto Quindi Autogestirli E farli uscire Quando Quando Cresce sia giusto Insomma Quindi Progetti Per realizzare Un cd Un ep O un Un vinile Ci sarà la possibilità Nel tempo? Speriamo Speriamo Tutto a un tempo Come sappiamo Io Sono dell'idea Che Ovviamente Chi troppo aspetta Nulla prende Però È vero anche Che Se ci metti Più tempo E anche Più dedizione E riesci a fare Una cosa fatta meglio Ben venga La fretta Non porta Niente A nessuno Però Speriamo Appunto Che 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 tra i live Tra nuove uscite Si possa fare qualcosa Si possa pensare in grande Insomma Perfetto Allora Andando Ricordiamo A questo punto Ci mancano due cose Fondamentali Per Questa cosa I saluti finali E soprattutto Gli indirizzi Dove poter Comprare Il singolo Assolutamente Sì Il singolo È uscito Su tutte le piattaforme musicali Amazon Music iTunes Spotify YouTube Music Appunto In radio E Per vedere tutti i aggiornamenti Del mio singolo Potete andare Appunto Su Instagram Sul mio sito Sul mio profilo ufficiale Di Instagram Savana Savana7official Trattino basso Se seguite le mie storie Vedete le mie storie Potete Tenervi aggiornati Sulle varie uscite E su Sui vari orari Delle uscite in radio Oppure Sui singoli futuri Che usciranno Questo mondo È saluto di finale Come? È saluto di finale Eh sì Ringrazio Le persone che Attualmente E spero anche In futuro Mi restino vicino Perché Non conta il successo Secondo me Non conta il successo Non contano i soldi Non conta nulla Conta la passione Finché una cosa Viene fatta per passione Appunto Come la musica Viene tutto Viene tutto il meglio Cioè Viene tutto da sé Poi Quindi ringrazio Tutte le persone Che finora Mi sono state vicino Come anche Il mio staff Brian E altri ragazzi E Pian piano Spero che Da passione Diventi Qualcosa di più grande Ovviamente Senza fretta Studio 7 TV E Sport Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata